Crutch Bind Set oggi poi la chiamata Crutch Bind Set è perfetta perché oggi ragazzi rispondiamo alla domanda anzi premiamo Paolo aspetta che adesso leggo il cognome Paolo Igitibascioglu Igitibascioglu che di origine turca che aveva vinto un gioco cioè con la community avevamo fatto un gioco dove bisognava indovinare la formazione dell'Italia e lui era tra quelli che l'aveva indovinata e aveva il diritto di scegliere un argomento a scelta di approfondimento e Paolo aveva chiesto parlateci un po' della mischia e io ci ho messo un po' e poi ho detto no, devo telefonare a Alejandro Hola Alejandro Ehi, hola hola Benvenuto Alejandro Moreno oggi allenatore del ISR Milano corretto ma soprattutto ragazzi ex Pumas ed ex Nazionale Italiana uno dei pochi ad avere vestito las dos camisetas le due le due magliette grazie Alejandro per aver accettato l'invito no, no, niente buongiorno a tutti è un piacere con sempre parlare un po' Alejandro allora quelli che hanno qualche anno in più come me sanno bene chi sei però tra l'altro hai giocato all'Easter Tigers eccetera però essendo che questo canale lo seguono anche tanti ragazzi più giovani prima di parlare di mischia e poi ci buttiamo subito dentro il tuo mondo hai voglia di dire due parole un po' per presentarti al pubblico sono Alejandro Moreno della Patagonia argentina del Rocker Rugby Club in Rio Negro di là nel anno 97-98 dopo giocare con Pumas sono partito a Chien in Francia dopo in Francia ho giocare a Chien in Brie a Perpiñan in Inglaterra Worcester Worcester Leicester Tigers Leeds Camigui in Italia Parma L'Aquila ho fatto il mondiale 99 con l'Italia 6 nazioni fino al 2008 e ho finito il 2009 nella torne che abbiamo fatto in Sudafrica e Argentina fantastico Alejandro io una volta ti ho già fatto un'intervista in spagnolo poi ci siamo parlati varie volte al telefono non ci siamo ancora visti dal vivo non ci siamo ancora presi una birra però insomma magari in futuro fai un'ospitata qui con il pubblico italiano perché al tempo facevo tutto su Facebook adesso mi sono trasferito su YouTube e insomma sono sicuro che la community avrebbe piacere di parlare con te e di farti qualche domanda però oggi questa la registriamo non è dal vivo perché abbiamo un argomento specifico la mischia allora iniziamo subito dentro l'argomento che cos'è per te la mischia e poi parliamo di come si è sviluppata intanto tu giocavi pilone destro sinistro e ho fatto qualche partita tra un attore per resistenza e infortuni quindi hai giocato tutte e tre le posizioni ok sì sì la mischia per me come le dico a tutti i giocatori che ho allenato a tutte le squadre che ho allenato dove comienza finisce il rugby il rugby per me è la formazione principale che dà la vita al rugby del 15 il 3 domini tutto lì l'attacco se la mischia è avanzante in palla nostra o avanzante in palla quando lancia o la mette in mezzo l'avversario c'è un avventaggio se è tua sei avanzante tutta la squadra avanzante è corrente l'altra squadra è in retrocesso e se sei in difesa lanciano loro e sei avanzante comunque la tua difesa c'è l'avventaggio che può andare su con cinque sei metri di avventaggio per me è quello dopo sì va bene è importantissimo la touch perché adesso il gioco è importantissimo le nuove regole del calcio sì però la mischia è qualcosa che c'è il regno è 15 che non c'è nessun altro ma tra l'altro non so se sei d'accordo Alejandro io dico anche che una mischia avanzante e l'abbiamo visto con l'Under 20 non so se hai visto le regole e come è e come è è capitano lo ce l'ho qua ah ok 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 e come è è come avere un jolly quando giochi a carte no? sì certo perché non è solo cioè quello che hai detto sì però è anche che puoi sbagliare di più perché poi è sempre una mischia eh sì però mentalmente eh per l'altro perché si uisce eh una mischia una mischia così forte o una mischia prestante è difficilissimo mentalmente puoi tenerla sì primo tempo 50 minuti se hai una testa competitiva o a livello internazionale ti dici vabbè siamo tutti lì però dopo i 50 60 minuti diventa una montagna che non puoi riprenderla più e se te o c'è una squadra che c'è una mischia prestante la mole è prestante è così eh spesso spesso coincide no? sì 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 perché la la mole è una mischia un movimento se te c'è una mischia prestante è sicuro che la mole va a essere prestante segura è molto difficile contro una squadra così eh il regolamento te lo lascio a fare tranquillamente eh tecnicamente è quasi parecchio solo il saltatore il resto è quasi una mischia allora una squadra che è prestante la mole la mischia è durissima durissima sì dopo puoi durare lo che vuoi però in ogni errore c'è una mischia o in ogni errore mi lasci la bala calcio tui per me faccio un amore è per quello che dico che è un jolly no? come in spagnolo un comodin no? ossia puoi giocare di più all'altezza puoi fare più offload puoi mettere più pressione puoi se te c'è un tre quarti che è una linea tre quarti veloce deve confrontarsi il confronto è tre quarti contro tre quarti allora è molto più spazio per attaccare sì puoi fare il lancio del gioco della mischia è molto più spazio hai molto più distanza per fare un'esecuzione pulita che la touche se una touche è redotta devi utilizzare la terza linea passare per una fase dopo l'altra non è così non hai così spazio certo è molto raro che vinca una partita una squadra che abbia una mischia completamente dominata succede pochissimo molto poco si vai la statistica te lo dici anche nel mondiale o sei nazioni qualunque campionato sia C B A 14 prima C la Celtic League tutti che hanno una mischia prestante sono lì sopra non c'è dubbio nel gioco nuovo con tutti i regolamenti nuovi le squadre che c'è le prime cinque che adesso possono o sanno giocare con le mani c'è un inventario enorme bello bello perché stiamo tornando un po' a quello che era la mischia all'inizio ci sono stati dei passaggi particolari e allora Alejandro non ti voglio fare sentire grande come me vecchio come me ma la tua prima mischia quando l'hai fatta e di com'era prima mischia l'ho fatto quando mi ha chiamato l'anatolio della prima squadra nella tua rugby non aveva 18 anni 17 faceva 18 lì e era una mischia non mi dimentico più perché io ho giocato tutte le giovanile under 12 under 14 centro alla qualche volta terza linea primo anno under 17 terza linea primo giorno di preparazione under 19 l'allenatore mi guarda e mi dice vieni qua avanti è il tuo posto e niente ho andato con la prima squadra era entrare a più di un metro di distanza perché che anno era? che anno era? 90 è nato nel 73 ok 93 sì 91 90 91 89 perché al tempo allora spieghiamo un po' i ragazzi di oggi com'era la mischia una volta non era come adesso con i tre con i tre esatto adesso è bisogno tecnica veramente tecnica prima era chi era più più coraggioso e chi entrava più forte a una distanza veramente sì più di un braccio non era che aspettiamo veramente un angolo così e cadono e di là forse le mische erano 20 che che secondo c'è un paio di video in youtube che sono le mische che sono 25 secondi di là e l'arbitro era lì con le due numero nove così nessuno è tallonare niente niente spieghiamo perché spieghiamo perché perché una volta sì e anche oggi un po' a volte c'è quasi la paura di tallonare perché che cosa succede quando il tallonatore la roba del tallonare io sempre dico avere una mischia buona performante tutto viene dietro della formazione quando te sei in under 14 15 o anche prima eh è tutto la qualità del allenatore o di chiunque intorno lì al club è molto qua andiamo veramente al dettaglio a me mi piace andare in giro e dirle a un ragazzo di 11 12 anni 13 che comienza a venire la testosterona quelli che hanno più 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 pelli del corpo ehm che lo vedi che sono qua e compagni qua allora chi è tuo papà tu mamà è lì là ok e lì comienza a capire guarda numero numero nove no no forse seconda linea forse dopo prima linea c'è vaccino largo sì buone grande va di un metro 78 80 80 eh se parliamo di alto livello sì va bene c'è i piloni di un metro 93 non di 4 però più di un metro 90 con una con un bacino largo largo pantaloncini tre excel sei prima linea cioè tu inizi a identificare una potenziale prima linea dalla genetica dalla genetica del giocatore cioè lo capisci già dal dalla struttura fisica già in un under in un under 14 in un under 12 eh tutti quelli che x factor che c'hai no eh e in mini rugby no perché i mini rugby sono cambiano tantissimi però già quando quella spinta di testosterona di ormone arriva è uguale che cominciare palestra prima a noi o a me io perché ero un pazzo cominciato palestra pesistica 12 anni 13 anni e ho avuto la fortuna di avere qualcuno intelligente che mi ha guidato bene però adesso anche i preparatori atletici guardano questi ragazzi che hanno già più peli di l'altro un po' di barba che hanno un under 13 vieni vieni cominciato a fare traccione cominciamo a fare così tecnica il corpo dopo un under 19 non è lo stesso un corpo un under 19 che ha cominciato a fare forza o palestra a 13 13 14 quando arriva in 19 5 anni che è un corpo che comienza a 19 è diverso è molto Alejandro ricordo che mettevi se non sbaglio c'è un canale anche youtube tuo dove mettevi tanti esercizi dopo lo metto nei commenti se è ancora attivo perché trovate veramente io mi ricordo che avevi visto durante la pandemia tante tante cose e veramente trovate tanti esercizi super interessanti per sviluppare i vostri i vostri Alejandro quando c'è stato il cambio da quella mischia dove si entrava appunto quasi correndo lanciati dalle seconde linee a le chiamate e quindi si è iniziato a lavorare sulla tecnica di ogni singolo posizionamento io ricordo che era all'Eister era la season 2006 2007 prima del mondiale 2007 era toccare aspettare e entrare che era 50 centimetri non è più era arrivare a toccare la spalla del pilone di fronte con la mano e aspettare qui e entrare quello già abbiamo dovuto adattare tante cose mobilità delle ditte del piede mobilità della caviglia mobilità del vaccino tanto il lavoro tecnico di sostenere quella postura lo più lontano possibile il lavoro specifico del cuore colo un'altra cosa cambiare la ligatura uscire con le spalle e il peto lavorare con il vaccino e non con la parte sopra se no così allora tutto è più di dritto tutto è più di dritto uno contro uno che prima era tutto attraverso era una cosa terribile però veramente il cambio è stato per me come formatore come formazione per un bambino fantastico perché lo fa più lontano con più sicurità perché se ti cominci a fare posturale in mini rugby semplice quadrupedia avanti e indietro fare come un gambero un gorilla tutte cose così quando arriva under 13 15 il corpo già è pronto per adottare quello che non solo per la misca sino per placare per pulire bene la rata evitiamo tanti infortuni tanti perché tutto lo tutto lo contrario che pensano quelli che sono fuori del nostro intorno noi dobbiamo essere mobile anche mobile e flessibile se noi non siamo mobile o flessibile cominciamo ad avere infortuni 14 anni di tendine o ligamenti che non deve esistere perché noi eravamo sotto un arve andiamo a correre tutto il giorno fuori adesso no è per quello che lo posturale diventa lo formativo con tutte le skills del rugby il posturale la mobilità e la flessibilità diventa importantissimo adesso perché nelle scuole non fanno quasi niente però Alejandro ancora prima di parlare di quella mischia lì della mischia già con i comandi tu sei argentino in argentina ancora prima c'era stata una scuola che studiava la mischia e in qualche maniera riusciva a dominare anche quella mischia un po' più selvaggia come era appunto quella che tu ci hai descritto tu si è parlato molto nel mondo del rugby della bajadita no? hai voglia di dirci in due parole che cos'è? quello sono hanno stato tre quattro allenatori super studiosi era un ingegniero un ingegnere un dottore un deportologo tutti i nomi adesso non me lo ricordo però dietro quello e anche Topo Rodríguez e tutti hanno collaborato con Córdoba o il SIC in Buenos Aires e hanno adottato quella quella sistema di io qua adesso a tutti che non gli dico ho parlato con un ingegnere aerospaziale e la bajadita è quasi come quando atterra un aereo no? questo è il vaccino questo è il corpo la testa è qua queste le gambe allora entri e come atterri l'aereo avvicini le sinocche a terra e porti tutto verso il campo e se hai buona mobilità di caviglia e sei tacchetti davanti quello diventa impossibile una volta che ti adotti questo che atterri l'aereo immaginiamo tutti quando atterra un aereo di fianco di fronte e di fianco e ricchiamo i piedi vai e ricchiamo i piedi e di fronte porti tutto quel peso lì davanti diritto perché adesso lavoriamo con il vaccino è quasi praticamente impossibile di spingere un contro e fondamentalmente questo principio è rimasto ancora fino ad oggi ovviamente le mischie sono diverse ci sono tantissimi dettagli in più però il principio di andare sotto alla mischia avversaria e avere una posizione di spinta dal basso verso l'alto è rimasto ancora il principio della mischia di oggi infatti spesso e volentieri si sentono prima delle mischie i ragazzi di tutte le squadre che dicono stiamo bassi stiamo bassi prima era di qua verso qua adesso a terra l'aereo e il diritto parallelo a terra ora è molto molto complicato con le nuove regole è molto più veloce prendere un calcio in punizione e quello è fantastico importantissimo di formare i ragazzi di avere una buona postura e di mantenere quella spinta di dito il che vince la mischia il che vince la mischia è che più tempo è che più lontano mantiene quella postura eh di tutti tutti otto dobbiamo essere lì lavorando per un solo obiettivo ok il più importante qua è il 6 7 8 ok interessante questo perché sono sono sempre molto sottovalutati perché perché sono importanti in una mischia il 6 7 l'8 perché sono sono lo finisher lo che finiscono di unire tutto la extra velocità per quella entrata è molto importante il lavoro di otto di otto e come le dico ragazzi il che fa box va va a fare un knockout con le mani con la mano così o con la mano così è così tutti e nel stesso momento è terribile è molto molto buono dal momento in cui arriva questo cambio di regole tu come ti ti adatti Alejandro giocavi a sinistra in quel momento no? all'Eister sì ok come ti adatti al cambio di regole quali sono state le prime problematiche di un pilone a livello internazionale in un cambio importantissimo no? sì prima prima di tutto era la preparazione specifica abbiamo dovuto fare mezza giornata o una giornata settimana solo posturale come mettere i piedi la legatura lavorare con il con la terza linea seconda linea a parte dopo con il allenatore dopo con l'altra parte la destra paradossalmente in quella adattazione ho cominciato a avere più risultati più performanti a destra allora all'Eister ho giocato credo che sono lì le statistiche credo che delle 80 partite all'Eister ho fatto 40-40 40 sinistra 40-6 però come ti dico io ho arrivato all'Eister nel 2004 loro avevano 6 avanti che erano campioni del mondo nel 2003 era Rontri Lucio Lian Wai Shooter tutto quello intorno anche io in Francia in Ascena ho giocato con Omar Hassan sempre ho avuto intorno a me tante tante tanta gente con tanta conoscenza e molto molto aperta a condividere a condividere tutto tutto quello e a fare migliorare quelli che erano intorno a loro per me quello e dopo ho avuto la fortuna di conoscere Topo Rodriguez anche Diego Cash tutti quelli lì che sono veramente gente esperta c'è un libro io c'è un libro che mi ha regalato Topo Rodriguez come si chiama il titolo Ingegneri in Scrum Machine non mi ricordo in inglese 500 passi parlando solo della mischia tutto quello è fantastico ad esempio di quello che hai detto fino adesso una cosa che colpisce magari chi non ha giocato in prima linea o non ha approfondito il tema della mischia è quello che tu dicevi perché uno pensa mischia bene la spinta delle gambe invece tu parlavi moltissimo ovviamente già un passo più in là e capire che anche la parte core ossia la parte qua del bacino è importantissima però tu hai parlato di caviglie e di articolazioni cioè le dita dei piedi l'importanza della mobilità delle dita dei piedi è moltissima differenza se tu hai 90 gradi nella mobilità delle dita dei piedi tutti non solo il grande che te lo puoi mettere a 90 gradi contro il muro è la caviglia la dorsi flexione della caviglia è lo che ti dà quella postura all'altezza giusta per vincere e per avere tutti i sei tacchetti davanti per terra quello che trasmitte la forza e quella forza dell'azione di schiacciare quell'aria sotto a tutta la mischia quella pressione è come siamo qua questo dove viene la panna l'embasso la bottiglia il tubo della panna montata ok noi la forza apriamo e noi le facciamo questo la panna va a uscire così ok diciamo non il tubo quello metallico ma come se fosse la sac à poche quella che utilizzano in pasticceria cioè se tu schiacci ok se schiacciamo così la panna va così perché noi molto veloce imprimiamo una forza così solo davanti solo davanti non va ad andare un'altra forza è lo stesso la capacità di indirizzare la forza dritta però mantenere tutti i corpi così dritti il vaccino al centro della mischia è molto molta pressione moltissima pressione perché spesso si sentono allenatori della mischia che dicono spingere tutti verso dentro spingere tutti verso dentro però come giustamente tu dici però comienza vieni contro vieni perché se no perché se no l'energia si dispara coscia contro coscia vaccino contro vaccino tutto il fianco contro l'altro fianco e a tutti i destri vi dico la mischia va ad andare avanti quando te stai per svenire non c'hai più aria niente e la mischia va ad andare avanti se ti comienzi a fare questo questo dentro va a passare un commercio lunghissimo eh adesso arriviamo alla specificità dei ruoli adesso arriviamo alla specificità dei ruoli adesso arriviamo alla specificità dei ruoli però voglio passare anche un po' per il tuo percorso qual è ti ricordi una mischia in particolare dove tu hai detto ah qui e di quegli anni diciamo negli anni che giocavi in Inghilterra dove magari ti ricordi dici oggi è stata perfetta e e perché che cosa che qual è quella sensazione lì che di essere tutti assieme a a a in Asien quando ho arrivato in Francia nel 97 98 99 era terribile però era già la mischia vecchia che entràvamo e eravamo Benassi Benetton Hassan Crenca pesavamo non so quante chili però di adesso moderna in Leicester incredibile perché eramo eramo quasi tre pacchetti di mischia e ci allenava Richard Cochering e veramente eramo così come si dice attenti ai dettagli così attenti ai dettagli e sempre facevamo qualcosa d'extra e credo credo che non stessi mai una squadra noi facciamo mischia tutti i giorni o mattina o pomeriggio 20 50 10 o è specifico nella palestra però facciamo tutti i giorni guardiamo video tutti i giorni analizziamo il rivale ci analizziamo noi era terribile terribile la satisfazione dopo sei così preparato che dopo quando vai in campo sei rilassato perché sai che puoi fare no non è arrogante sino quella arroganza positiva che dice no io mi ho preparato molto di più che loro noi abbiamo fatto in un mese tre volte la mischia che ha fatto tutta la prima ship no in quel 2007 abbiamo giocato le tre finali una dietro l'altra un sabato la finale di l'esercato l'altro sabato l'esercato l'altro sabato l'esercato e abbiamo in tutto l'anno abbiamo perso forse si tre quattro partite e abbiamo imparaciato una e abbiamo vinto semifinale calciando al pali però quel pacchetto di mischia era qualcosa che succedeva Antigood calciava l'angolo molto meta eramo vicino dentro le 22 sappiamo che con la mischia o prendiamo calcio favore o facciamo meta di punizione o eramo in centro il nostro 22 in problemi in pressione avevamo opzione mischia calcio punizione a favore calciava l'antigood e andiamo di là e così quello hai parlato della preparazione cioè preparazione nel fare la mischia nel fare postura e anche nello studiare la propria postura e la postura dell'avversario secondo te quanto tempo in stagione una squadra diciamo una squadra senior under 18 non meno dall'under 18 in su dovrebbe dedicare al lavoro specifico di mischia per esempio voi a Milano quanto tempo dedicate dell'under 19 fino all'under 13 tutti i riscaldamenti sono con postura perché ho parlato con un preparatore 13 e abbiamo messo tutto un protocollo di sei esercizi per fare specifico postura tutti allenamenti allenano tutti tre volte a settimana e c'ha primo diciamo se è lunedì martedì sovedì lunedì hanno il reparto fanno touch e dopo fanno uno contro uno due contro due tre contro tre cinque contro cinque solo posturali mantenere lì lo più lontano possibile in isometria 15 minuti 20 minuti dopo il martedì fanno mischia contro mischia o mischia in una macchina 15 20 e dopo c'è l'udì fanno 6 8 con il 9 con l'introduzione per essere coordinati con il talonaggio la chiave qua è che è prestazione facciamo tantissima postura tantissima mischia e nella palestra hanno un lavoro specifico del cuore collo tutti i tempi morti proviamo a fare qualcosa specifico per te no e dopo arrivi nell'anno a fare fai tutti i giorni però no ti ammazzi tutti i giorni perché arriva un momento che fai 15 mischie fate bene 15 tu fate bene basta dopo possiamo passare a un'altra cosa fai prestazione calcio inizio però la preparazione lo che io parlo è che fai prima di arrivare alla prestazione e che fai durante la prestazione la chiave è lì no con l'anno tutto si pianifica per cambiare c'è mesi o settimane che facciamo veramente forte perché abbiamo un weekend libero o cambiiamo cinque della misca gli altri fanno il doppio però quello lo lavoriamo parlando nell'estate per me la preparazione comienza mini raggi un posturale veramente morale dopo ti chiedo una cosa molto veloce posizione per posizione perché poi non voglio tenerti anche troppo tempo però se dovessi dire le tre cose più importanti secondo te per un giocatore di mischia che cosa che cosa diresti domanda così un po' sì abnegazione abnegazione non molare mai niente niente fiducia in te e preparazione imparare a sofrire imparare a sofrire e prendere felicità soffrendo perché se io sto soffrendo te sei quasi morendo sì sì è la classica quando ti dicono ti sei fatto male sì ma non hai visto l'altro è quello la preparazione dopo tu ti dico no oh la preparazione mentale sì sì fantastica buonissimo però la preparazione che ti metti a ti stesso è lo che ti porta dopo quella mentalità di abnegazione e di non molare niente poi è la stessa cosa ossia la preparazione mentale è quello che tu dici il sapere soffrire sì 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 uno porta l'altro è come non so adesso tanti dicono eh sì però è uguale non so c'è un lavoro io ci non voglio andare però devi andare spesso diciamo che in mischia la capacità di soffrire può superare la capacità tecnica no la flessibilità le cose se uno vado uguale non so esempio quando noi andiamo in bicicletta ci guardiamo ai piedi no perché hai fatto miliardi di ripetute guardi avanti o vuoi dare la macchina questo è uguale questo è uguale questo no non vuol dire che devi fare tre ore ogni giorno fai dieci quindici con tutti te da solo fai la palestra nel momento in tempi morti è tutto sumato nella settimana è tanto non è poco ascolta Alejandro proviamo ad andare posizione per posizione pilone sinistro intanto per chi non ha vissuto la mischia uno dice pilone pilone no che differenza c'è tra un pilone sinistro e un pilone destro e quali sono le caratteristiche importanti per un pilone sinistro pilone sinistro più più che un'altra cosa deve sostenere quella postura aiutando il destro con la sua veramente attaccare il destro qua diritto al destro di fronte e questo braccio è lo che le va a dare tutta la stabilità e la pressione verso il destro se il destro non avanza il sinistro non si può muovere se no gira si o si allora con tutta questa pressione che parliamo con il bacino le gambe il il fianco se io ho la postura lì lavoro per il destro e dopo avanziamo se io con questa di fianco a me io non vedo che il destro va avanti no non possiamo muoversi è preferibile avere una mischia fissa lì la balla esce veloce e sogniamo sì però il pilone sinistro già c'è la mitad del corpo fuori quasi e è lì allora se io faccio qualcosa che non devo fare la mischia comincia a girare e con il regolamento nuovo ciao tutte le mischia sono diverse dalla prossima la prossima diversa la che abbiamo vissuto è la prossima un'altra diversa il pilone sinistro in una mischia che può avanzare deve stabilizzarla no cioè il sinistro con il trenatore devono fare avanzare il destro per dopo noi andare e il pilone destro la differenza del pilone destro che il destro c'ha due persone il pilone destro è tra virgolette il gorilla della squadra il uomo forte veramente forte va a destra alto e corto si è forte forte davvero a destra è così è il che mantiene l'altezza e la solidità della mischia e il che ti dà l'angolo di attacco il destro è il che ti dà l'angolo di attacco perfetto e questo in una mischia che può avanzare e invece in una mischia che deve difendere il pilone ossia abbiamo una mischia che per forza di cose è dominata il lavoro del pilone sinistro e il lavoro del pilone destro si della mischia abbiamo problemi più che mai insieme e se andiamo indietro andiamo indietro lo più lento possibile però senza fare calci senza fare calci dobbiamo anche imparare a retrocedere però con controllo perché se no perdiamo le terze linee le terze linee devono fare in giro no perdiamo tutto tutto riferimento allora più calma e controllo lo so che non è facile però sì abbiamo un problema tutti tutti insieme più che mai piano 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 controllando non cominciamo a alzarsi girare buttarsi a terra no 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 perché lì calcio dopo calcio cialdo e comienza abbiamo dieci problemi non uno perfetto ogni tanto Alejandro si dice che il pilone sinistro ha anche il lavoro di distruggere la mischia avversaria ossia di mettersi con la testa tra il pilone destro e il tallonatore è corretta questa affermazione si si mette con la testa tra il destro e il tallonatore perché è incrociato ok perché è così allora quindi non si dovrebbe fare ok è un sinistro c'è il destro qua per mettermi sotto il destro e il tallonatore sono 45 gradi seguro un'altra cosa è che io basso con la faccia alla una io le dico mezzo giorno alla una sì e mantenere questo lì sì però sempre con il vaccino attaccato è quello che vettori di forza fisica se tutti i vettori sono paralleli una volta che un vettore parte tutto parte è tutto lì la 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 magia è lì a tutti i lati che mi chiedono dico guarda il vaccino se il vaccino e il fianco parte c'è qualcosa che non va ciao calcio seconde linee seconde linee anche qui c'è un mondo che di solito ci dimentichiamo perché quando la mischia funziona tutti dicono wow il pilone destro di solito è quello che si prende tutto il merito ah no aspetta ho dimenticato il tallonatore il tallonatore lo lasciamo dopo alla fine allora seconde linee seconde linee intanto ci sono varie filosofie un ginocchio a terra due ginocchi a terra come si devono secondo te secondo la tua idea collegare con le prime linee io cerco sempre io di togliere tutti i movimenti possibili che abbiamo per togliere io lavoro il sinistro questo con il tallonatore e il piede sinistro qua né troppo lì né avanti eh allineati o un pochino all'esterno dietro un pochino il destro allineato completamente si è più alto che il tallonatore con il piede dietro al tallonatore in seconde linee tutti seconde e terze tutti con le ginocchi a terra due e tacchetti per terra perché sosteniamo dopo la presa dentro fuori tutto dipende del braccio di seconda linea si io c'ho un pilone con un bacino enorme e il seconda linea fa un metro 93 non serve a niente che lo faccio fare questo perché il braccio non è che è di guare allora meglio qua sicuro lo tengo con me tutti i sinistro ginocchio per terra e nel lega un movimento solo facciamo tac decolliamo appena il ginocchio a terra e l'otto è dentro e entriamo tutto lì una curiosità sì no una curiosità allora questa è diciamo il vantaggio di avere le due ginocchia a terra ogni tanto si vedono delle seconde linee con un ginocchio a terra qual è il vantaggio e lo svantaggio di una o dell'altra scelta è che nel movimento ho dei piloni che vedi i piloni che sono i piedi così e nel lega fanno così esatto per me il movimento fanno quello prima poi non c'è mobilità delle caviglie non ti puoi abbassare allora devi avere stabilità una gamba avanti una dietro per dopo allineare quando ti scarichi in quel movimento la gamba è la seconda la mia la pressione va ovunque ovunque è così e le chiedi a miliardi di prime linee e è così il talonatore al destro di qua al sinistro il talonatore deve essere diritto sul suo talonatore e è il che dà la velocità all'entrata se noi ci cominciamo a muovere tutti se hai pressione addosso te siedi adesso il talonatore deve essere una gamba avanti una dietro fino al via e c'è ancora perché stai scaricando tutto su lui bravissimo è un seno umano è un seno umano deve avere una gamba e io avevo avevo di fatti dimenticato il talonatore però inseriamolo adesso perché il talonatore non solo è un ruolo è un ruolo complicatissimo perché perché intanto è l'unico che ha le mani che ha le mani occupate e poi adesso hanno inserito anche la regola che deve tenere il piede freno vuoi spiegare un po' tutto questo il ruolo del talonatore il piede freno è per noi che prima era quasi in aria in aria con le gambe in aria mettersi no? va bene che siamo vicini però si guarda in tv la media di una mischia adesso è 880 900 kg in questo spazio qua se nel tocco esperto e entro erano 4 tonnellate adesso con 110 kg in più il bacino deve avere più mobilità si è tutto dita caviglia polpaccio mille robe il bacino avere la schiena quando c'è sotto così petrofori e il talonatore tutto questo la sua armatura e dopo i bracci sono qua certo allora quel lavoro non è che succede è così e anche tutte le regole nuove come sappiamo tutti è per accelerare il gioco la mischia e la tuccia adesso abbiamo 15 secondi e che mi ha visto qua sono come un pazzo 15 14 13 prima che la squadra prende il ritmo la difesa c'è qualcuno che non c'è e se te prendi il ritmo a fare una tuccia una mischia dentro quei 15 secondi la intensità e la velocità del gioco è un'altra cosa un'altra cosa per me va bene per me va bene sì 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 anche quel piede di freno è più comodo per fare il tallonaggio veloce per il tallonaggio certo e poi ovviamente il tallonatore deve tallonare qual è un trucco secondo te che cioè la cosa più importante nel tallonaggio di un tallonatore quando alzare il piede come muovere quella gamba c'è qualcosa che ci vuoi dire sul tallonatore no il tallonatore deve lavorare molto la coordinazione con il 9 quando la vuole lui perché se vogliamo una mischia lì giocare veloce per lanciare è una cosa se vogliamo una mischia per avanzare e tenerla un'altra c'è il canale 1 2 è un lavoro in congiunto no e dopo con il destro il tallonatore quando va a tallonare deve veramente mettere tutto sul destro il destro deve sopportare quel secondo in mezzo che è tallone per dopo andare non può andare in tallonare è tutta una cosa che deve essere questo è interessante ossia il pilone destro è fondamentalmente quello che compensa la colonna la mancanza di peso quando il tallonatore deve alzare il piede per spiegare anche a chi magari non ossia il tallonatore è uno degli altri che spinge in mischia però c'è un momento che è obbligato ad alzare un piede con una gamba esatto esatto e quindi lì quella spinta deve essere compensata e la colonna è il pilone destro e lì più che mai è quelle spinte di vita che diciamo tenere così il tempo di lui di uscire la gamba e tornare per dopo andare no benissimo benissimo bene e per chiudere poi ti chiedo due o tre cose simpatiche su quali sono le mischie che ti piacciono di più però per chiudere abbiamo detto che anche le terze linee hanno una funzione importante per me è fondamentale quella di compattare quella di chiudere tutto per me come lo eleno io diciamo la terza linea che va a sinistra si lega sopra della seconda linea a destra e la terza linea a destra la seconda linea a sinistra così compattiamo di più prima linea con la seconda e l'otto può mettere o le mani per terra e nel via si lega o se abbiamo un otto che è mobile e flessibile può rimanere lì però per me quel mezzo secondo del via sono loro che finiscono di compattare tutto e per loro meglio se noi avanziamo la terza linea corre così a difendere non deve fare il giro indietro non deve fare la curva e così in attacco è uguale avanziamo in attacco la balla va destra sinistra in terza linea corre in diagonale si anticipa basta invece di fare quel giro e dopo prendi a tutti in faccia certo bene io credo che abbiamo dato una bella panoramica anche a chi avesse voglia di capire un po' come funziona la mischia c'è qualcosa che è importante e non abbiamo detto Alejandro il segreto il segreto della mischia il lavoro preparazione il lavoro sempre paga sempre paga no niente non essere niente per scontato niente ti puoi essere sei nato con DNA sei enorme forte lo che vuoi però si te non rimani sotto lì basso più lontano di fronte a te che può essere così perdi lo stesso per chiudere io Alejandro ti chiederei tre cose molto veloci uno la mischia che ti piace di più la mischia che oggi come oggi ti piace di più di quale squadra buona Nova Zelanda ultimi dieci anni terribili perché hanno lavorato Irlanda Irlanda è intelligente la mischia è molto intelligente Italia ha migliorato tantissimo tantissimo però sì tra le due migliori Nova Zelanda Irlanda tatticamente lavorano molto intelligente Italia ha fatto un passo enorme avanti enorme Argentina ha cominciato a migliorare ha perso ha perso un po' di quella mistica che aveva prima adesso ha cominciato un po' a riprendersi però sì è lì dopo dopo Francia è pesantissima Francia veramente è grande 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 Francia e Sudafrica sono le due mischie più pesanti me le hai nominate tutte no no certo certo però se dovessi sceglierne una diresti Nuova Zelanda quindi sì 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 perché loro anche si adattano si adattano tantissimo una mischia un secondo la linea non si prende l'altra mischia il pilone destro va avanti del trannatore si lega sopra il trannatore all'altra mischia sotto è interessante questo che dici cioè la Nuova Zelanda adatta posture e legature a mischia e mischia anche per confondere il gioco agli altri no è come una partita di poker una partita di scacchi sempre in attacco guarda quando c'è piloni destri che sono enormi 1,95 1,95 1,96 va la loro wide lock lascia l'altra seconda linea si prende del trannatore del pilone e il pilone invece di andare sotto va sopra il trannatore allora c'è il pilone destro bene avanti con wide lock in terza linea e sempre quella mischia che fanno quel cambio la mischia fa una velocità verso destra con la balla con il come si dice il trannasio veloce allo stesso tempo quelli 10 metri quando quando vedi c'è tutto qua però perché la mischia è la mischia che ha lanciato veramente la balla con il 8 il 9 il 10 in centro e quando la fai così c'è tutto qua che belli questi dettagli che belli questi dettagli perché se uno non conosce cioè la mischia è un mondo dentro un mondo è veramente un mondo dentro un mondo non so per dirti Crusader La Rochelle Toulouse più del più del 88% delle mete di prima fase vieno della mischia ok l'altro che ti volevo chiedere è invece se dovessi dire un un giocatore un pilone un pilone che che secondo te in questo momento è uno che ti piace che ti piace tanto Furlong Furlong è terribile Furlong è terribile dopo Ferrari dell'Italia bella chiamata interessante perché che cosa è che ti piace di Ferrari la mobilità il gioco lui è lo che ti dicevo prima lui Ferrari e l'altro più giovane ah non mi ricordo con il tatuaggio Niccolo Riccioni Riccioni tutti e due sono solide mischia la balla la portano avanti e sanno come giocare con la balla in mano quello e non sono enormi non sono enormi sono come io un metro trento trentadue però la tecnica è la che fa la differenza i dettagli fanno la differenza e se te c'hai cinque avanti che possono giocare nel centro del campo tra le due e quindici con le mani prende decisioni è fantastico fantastico e infine l'ultima domanda Alejandro pensaci un po' la mischia più bella che hai mai giocato tu cioè ma proprio dimmi la partita dimmi quel momento lì che cosa è successo quella che ti ricordi per qualche ragione sì sì ho due vai 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 semifinale per Pignan Tolosa a Montpellier abbiamo trovato l'estadio a Montpellier semifinale 2003-2004 del Tocatornici e facciamo due metri tecniche di mischia e abbiamo veramente trovato due o tre balloni di Tolosa abbiamo messo tutte le nostre pulite molto buone e dopo finale Primership contro Gloucester in Tricanam 2007 con Leicester abbiamo fatto metri di mischia metri di mol era una roba mol di 20 metri terribile questa la dedichiamo al nostro amico Ottavio che è molto tifoso di Gloucester o la mischia che avevamo in Italia l'ultimo torneo che ho usato io 2008-2009 che abbiamo vinto in Argentina contro Argentina anche era Sergio Parise Nieto io la prima linea chi era? la prima linea chi era? Nieto io Ongaro Delape Bartolami Sergio Mauro Begamasco e l'altro mi hai dimenticato comunque quando hai detto questi nomi è incredibile pensare che Sergio sta ancora giocando è grande 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 va bene Alejandro io ho giocato fino a 39 fino a 39 ultima partita in Leeds in Primer Ship 39 era il giocatore più vecchio nella Primer Ship grande grandissimo 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 Alejandro io ti ringrazio è stato un grandissimo grandissimo piacere spero che sia utile grazie mille fischio finale un grande grandissimo bacio spero che vi sia servito vi sia stato utile metterò in descrizione i link al canale di Alejandro anche in Instagram sempre tutelare la mente sì Alejandro seguite grazie